Tutto pronto per San Nativity 2019, la suggestiva manifestazione organizzata dall'Associazione di Volontariato Promuovi Scorrano, che per il secondo anno consecutivo permetterà a turisti, cittadini e curiosi di ammirare uno dei presepi più caratteristici d'Italia, interamente realizzato in sabbia. Patrocinata dal Consiglio regionale della Puglia, la suggestiva manifestazione, in programma dal 1 dicembre al 6 gennaio 2020, presso il Chiostro del Convento degli Agostiniani e Palazzo degli Acoveris, è stata presentata nella sede della regione Puglia a Roma, alla presenza degli artisti, che hanno realizzato le opere provenienti da Italia, Lituania, Belgio, Olanda, America, Canada, Russia e India. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà, il verso del Vangelo di Luca, che ha ispirato il tema dell'edizione 2019. Oltre alla natività, infatti, sarà possibile ammirare installazioni dedicate a uomini che hanno posto l'umanità, la semplicità e la fratellanza al centro della loro esistenza. Don Tonino Bello, San Francesco d'Assisi e il Mahatma Gandhi, in occasione del 150esimo anniversario della sua nascita. Il Consiglio regionale ha già padrocinato la prima edizione del presepe di sabbia a Scorrano, un'edizione che ha avuto un grande successo e che è stata ripetuta quest'anno con un'ampiezza ancora maggiore, interessando artisti di otto paesi diversi e dando anche un tema importante che richiama anche il clima del momento, quindi delle festività natalizie, gli uomini di buona volontà. Quindi ai temi della nostra tradizione cattolica, quindi del presepe, aggiungiamo anche tre rappresentazioni di Gandhi, di San Francesco e di Don Tonino Bello, quindi andiamo proprio in quelle che sono le nostre radici. L'idea nasce da un racconto di un nostro socio che viveva in Canada, anche lui organizzavano queste cose lì in Canada e l'abbiamo voluto trasferire nel nostro piccolo paese Scorrano. L'anno scorso abbiamo invitato tre artisti, quest'anno abbiamo voluto allargare dando un taglio di internazionalità invitando sette artisti da paesi diversi, dall'America al Giappone all'India. Le opere si ispirano a un tema, gli uomini di buona volontà, e quindi da questo tema nascono delle sculture importanti come il Malata Gandhi, in occasione dei 150 anni della sua nascita, e San Francesco, patrono d'Italia. E poi San Francesco è stato anche il primo a realizzare un presepe. Grazie.